Ciao a tutti da Shocking98 e... La Supermanga98! Sì, è un po' e avete lasciatelo perdo, dai. Allora, oggi sono qui appunto con il mio amico Supermanga98 per mostrarvi un altro dei bellissimi super giochi di Poké Park che è lo Squassaroccia di Blaziken. Andiamo. Come al solito, Supermanga98 mi dirà chi utilizzare. Noi direi Blaziken. Blaziken è andata. Eh, non gli ho ancora preso il bonus. Solitamente i catti del supergioco sono sempre migliori. A parte i leggendari. Sono un caso a fare. Ok, vai. Ah, è ritardo. E dai Blaziken! Non un ottimo risultato, però buono. Anche non avevo record. Sì, non avevo record, quindi... Ok. Il gioco è finito. Alla prossima. Ciao da Shocking98 e Supermanga98. Ciao!